eccoci qua buongiorno bella gente eccoci qua al pomeriggio ad una e mezza ciao chris come sto allora come sto rispetto a ieri meglio riesco ad alzare la testa si vede che stamattina mentre ero in negozio tra antidolorifici meglio antinfiammatori le nocche di mia madre perché io so che ho un problema praticamente qua dietro la scapola è un problema muscolare e un mio amico fisioterapista quando mi curò alla scapola opposta mi disse ste tu sai benissimo che se ti si blocca il collo il tuo problema è dietro la scapola e quindi l'unica cosa che devi fare è cercare di manipolare quel punto per scioglierlo quindi nocca proprio piena movimento a rotazione e la frase è ma fammi più male che puoi quindi vai fregatene se senti che mi fai male e infatti devo dire che adesso il collo lo giro cubì ma lo giro sono un signore rispetto a ieri mi fa ancora male mi dà ancora un po' di fastidio ma rispetto a ieri sono un signore ciao nox allora allora tanto aspettiamo un pochino che arrivi un po' di gente no beh cioè il mio amico fisioterapista mi aveva mi aveva dato una sacconata al collo insegnandomi un po' i trucchetti e le problematiche e devo dire che è stato un bel è stato un bel insegnamento sì c'è una situazione del genere nox più o meno siamo lì c'è tutte le volte che che c'ho del male addosso che c'ho il collo inchiodato tocca chiamare qualcuno che mi frusti sul collo allora ciancio alle bande ragazzi sono già passati un sette minutini tanto poi giovedì questa live la vedrete tranquillamente su su youtube ciancio alle bande cambiamo il layout eccolo qua così è visibile a tutti mi bevo un goccino d'acqua che ce l'ho qua di fianco che ieri non avevo e possiamo cominciare tanto ragazzi il capitolo di questa settimana sarà abbastanza rapido e cercherò di finire bene o male entro le tre così potrete andare di là dal re per poter andare avanti e guardare la sua live credo del 25esimo parallelo quindi ciancio alle bande cominciamo e andiamo un attimo giù con quello che sono le immagini allora copertina titolo rufi vs kizaru quindi rufi vs kizaru vi leggo la mini avventura cioè la mini avventura la cover a richiesta perché la cover a richiesta ha un bel gioco di parole intanto devo un attimo ridurre qua così io so dove riesco a vedere e dove riuscite a vedere voi allora il titolo dice bene o male quello che sono le mini avventure è una frase a modi titolo di giornale quindi di solito non ci sono dei verbi finali ma viene tutto troncato come se fosse un titolo di giornale cosa significa? allora il soggetto della frase sono meganesaru no kyodai no kyodai cioè come ho segnato io fratelli tarsi perché kyodai sono uno il kyo e il kanji di fratello maggiore dai e il kanji di fratello minore insieme si intende fratelli in generale meganesaru che alcuni hanno tradotto come scimmiocchiali scimmiocchiali ragazzi non esistono scimmiocchiali se voi andate a cercare su google non esistono anzi cioè fatemi vedere se ho la seconda pagina attiva non ho la seconda pagina attiva quindi va bene così scimmiocchiali se voi andate a cercare scimmiocchiali su google non vi comparirà assolutamente niente anzi guardate me lo tengo segno di qua così me lo tengo scimmiocchiali scimmiocchiali ecco ve lo faccio vedere scimmiocchiali se io lo scrivo salta fuori sta roba qua che non vuol dire niente assolutamente niente mentre invece già se scrivo alla giapponese meganesaru meganesaru entra in scena esattamente questo cioè i tarsi dove cavolo sono qua questo che è un tarso come cazzo ha fatto entrare questo vecchio cuore rorenz il kung per il primo per la prima iscrizione a livello 1 grande 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 quindi grazie mille e ricordo a tutti quanti che se vi volete abbonare potete utilizzare sia il prime o come ha fatto il vecchio cuore lorenz potete tranquillamente andare di livello 1 livello 2 livello 3 quello che c'è credo sia livello 1 e livello 2 settati quindi grazie mille meganesaru sono è un gioco di parole giapponese perché indicano delle scimmie con gli occhiali che sono i tarsi ma loro le chiamano scimmie con gli occhiali e poi c'è tutta la frase precedente collegata a queste scimmie con gli occhiali che cosa fanno rubano 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 da Kobi e del Meppo gli occhiali e gli occhiali da sole perché c'è megane che sono gli occhiali to sanguras perché? perché i giapponesi gli occhiali da sole li segnano all'inglese sunglasses di solito recupero su youtube compreso lost in translation è ora di venire a partecipare di persona grazie mille ci sta grazie mille Lawrence tra l'altro appena possibile e cioè in realtà sarebbe già possibile ma devo un attimo lavorare di più sui contenuti anche del canale youtube per poter mettere gli abbonamenti anche lì ma ci vuole pazienza devo lavorarci sopra ad ogni modo cominciamo iniziamo col capitolo perché bene o male qua ne ho già parlato abbastanza vamonos un attimo che alzo questo così non si vede l'header e del sito ok perfetto perfetto già iniziamo con Rufy che che sghignazza ma che non ride come già dicevamo ieri sera nella live perché quando Rufy soghigna viene segnato come sci 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 perché ha i denti chiusi quindi è il suo soghignare non è il suo ridere proprio in maniera sguaiata che quello lo vedremo dopo poi abbiamo uso perché vabbè dice Rufy per ora niente di che niente niente di che iniziamo maittane quel maittane che è qua di fianco che è questa parte qua praticamente abbiamo Kizaru che maittà mairu viene utilizzato soprattutto nei battle shonen per indicare quando uno viene sconfitto a volte anche quando uno si arrende però maittà essendo un verbo al passato fa più capire ah ho perso davvero ho perso quindi eh e poi scendiamo oi oi e vedete cioè alla fine la faccia che fa Kizaru non è certamente quello che si stupisce lui sta andando a una velocità normale cioè questo si muove alla velocità della luce cosa pensate che faccia di differenza tra farsi ruotare così a sta velocità Rufy che urla non giro perché sennò mi inchiodo di più col collo anche qua continua a tenerla lunga se vedete qua finisce dice e poi ha questo secondo i in katakana che di solito serve per allungare continuare ad allungare la pronuncia di una vocale e in più c'è quest'altro simbolo qua questa onda che viene utilizzato sempre lo avete visto anche qua in maittane serve proprio per allungare la pronuncia della vocale kizaru lo fa sempre kizaru tutte le volte che parla ha questo modo di trascinarsi dietro le vocali soprattutto nella parte finale dei balloon o tei arawakani significa allora te ya warakai te ya warakai vuol dire tecnico cioè letteralmente mano leggera mano si leggera ya warakai è morbida ok o tei ya warakani significa vacci piano non esagerare non andarci pesante vacci piano e infatti parte con o tei ya warakani e poi finisce la frase dopo tanomu io e anche qua tanomu con lo io lunghissimo io in hiragana o il secondo o è in katakana e poi c'è questa serie di onde che è proprio il fatto che stia continuando ad allungare le vocali tra l'altro mi ha fatto un sacco specie non so se vi è capitato anche voi quando avete letto il capitolo la posizione dei balloon perché a me suona stranissimo vedere i balloon cioè di solito questo tipo di balloon vengono piazzati in maniera un po' diversa non vengono piazzati proprio sopra la rotazione di certi movimenti ma vengono sempre un po' spostati invece sembra quasi se ci guardate che i balloon facciano proprio parte del movimento sono un po' diagonali mentre di solito sono sempre orizzontali o verticali e invece qua sono proprio diagonali vanno proprio fuori per la tangente quel tanomu yo che si ricollega a otei yawarakani tanomu yo allora tanomu spesso e volentieri è viene utilizzato quando si fa una richiesta ti prego per favore per piacere questo tipo di frase e in questo caso è sì un vaccipiano per favore e continua a trascinare quel per favore e viene lanciato via e qua abbiamo la risata e qua ride prima soghignava prima era shi 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 qua invece wa ya 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 quindi è proprio anche dalla dalla risata è proprio si vede che c'è una risata perché è proprio il movimento della bocca wa ya 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 quindi è proprio una risata sguaiata e rufi che che continua dicendo tonda na che non è una forma geometrica tonda che è la forma piana di tobi mashta significa ah è volato è andato ha preso il volo e quel na di solito viene utilizzato un po' per confermare quello che viene detto o anche per dare una certa enfasi alla frase che viene detto quindi ha preso il volo è volato via poi andiamo avanti perché abbiamo usop e comunque chi c'è dentro che a un certo punto dice imano uchi yo nige nakiya imano uchi yo è in questo momento proprio ima è adesso uchi di solito è dentro imano uchi yo vuol dire tipo ma proprio adesso in questo preciso momento nige nakiya è invece la contrazione di nige nake reba nige nake reba significa dobbiamo scappare dobbiamo fuggire quindi usop parte dicendo dobbiamo fuggire prima di subito immediatamente anche se di solito immediatamente viene utilizzato come sugu mentre qua è proprio imano uchi proprio nel momento proprio istantaneo in questo istante rufi ha kizaru wo tomete ruchi ni no dai luca non sta disegnando male ricordati sempre una roba ricordati sempre che questa è la ro quindi significa che questo è il capitolo che viene fatto uscire nel nel volume di jump di solito il volume di jump è sempre meno curato rispetto a quello che è l'uscita del capitolo su su volume vedrai che quando esci il volume certi elementi che sono solo tratteggiati sono invece chiusi saranno ultimati saranno terminati con la china disegnati anche meglio alcuni elementi a matita verranno cancellati ricordati sempre proprio questo che la ro che è quella che esce nel volume di jump non è il capitolo ultimato e questo fa la differenza allora ero rimasto a rufi ga kizaru otometer uchini e quel to meter uchini uchini significa nel cioè nell'istante in cui in questo momento ciao savax grazie mille per il prime vecchio cuore anche tu cioè quindi finché nel momento in cui rufi sta fermando kizaru quindi rufi ga ga è il soggetto kizaru o indica l'oggetto to meteru è la contrazione di solito nel parlato di to meteru che è un present continuous detta all'inglese cioè un'azione che si sta continuando cioè quindi rufi sta fermando kizaru uchini quindi nel mentre finché rufi sta bloccando kizaru dobbiamo fuggire immediatamente in questo momento e andiamo do koi konda atlas classica domanda dove stai andando atlas bella versione a colori tanta roba siamo fermi a 99 due anni no due anni luca no dai secondo me siamo fermi al 99 dall'inizio dell'anno no secondo me inizio anno luca secondo me dall'inizio dell'anno eh no è un'eternità chiaro però secondo me all'inizio dell'anno questa frase che è stata tradotta veramente con i piedi di balsa è stato quello che nel corso della prima lettura del capitolo ha dato adito a una quantità enorme di problemi allora prima vi leggo la la prima parte poi andiamo alla seconda stano sode stano so è nel livello nello strato inferiore eh due settembre un anno fa esattamente un anno fa beh vedrai che a breve lo faranno uscire se non l'han già fatto uscire in giappone stano sode indica il luogo in cui avviene l'azione successiva quindi in cui nella frase che c'è qua sotto viene indicato e viene indicata l'azione questo è il luogo cioè nello strato inferiore che cosa succede nello strato inferiore pacifista no mere ken uo ubau ubau che non è un cane che abbaia è il verbo rubare ubau in questo caso indica che atlas vuole rubare o ruberà cioè probabilmente sarà ruberò al futuro perché al presente suona malissimo cioè nello strato inferiore rubo il diritto no ruberò il diritto perché non ci sono ancora mere ken questo è importante mere è ordine ken in questo caso è il diritto vediamo un attimo il ken ve lo cerco di preciso sul dizionario qua ken è il diritto il diritto di qualcosa quindi il diritto di ordinare di dare un ordine ai pacifista quindi fondamentalmente non sta dicendo vado di sotto a rubare il chip di autorità dei pacifista ma dice vado di sotto a prendermi la facoltà di dare ordini quindi il diritto di dare ordini ai pacifista perché probabilmente dal punto in cui si trova non lo può dare quell'ordine ma deve andare di sotto avvicinarsi ai pacifista per diramare questo ordine quindi niente chip non deve rubare nessun chip ma deve rubare ad altri un rubabandiera il diritto di poter dare l'ordine perché il diritto già ce l'ha ma in questo momento i pacifista stanno dando stanno combattendo sotto gli ordini di kizaru andiamo avanti esatto mi riprendo la facoltà di comandare esatto solo che quella facoltà di comandare è tra virgolette perché è il nome che viene dato alla sua a questo tipo di abilità di capacità di ordine di diritto ha proprio questo nome qua mereken il diritto di autorità il diritto di dare ordini nella frase successiva dekinakia è anche qua la contrazione soprattutto nel parlato di dekinakereba cosa vuol dire dekinakereba è un condizionale se non lo facessi se non ci riuscissi perché dekiru è riuscirci nakereba è il condizionale negativo dekinakereba è se non ci riuscissi ecco qua che va corretto quindi correggiamo se non ci riuscissi non lo riuscissi se non ci riuscissi toita totan ni nel momento esatto non appena e avremo sciolto la barriera baria o toita totan ni quel totan vi dico ragazzi che io la forma verbale toita totan è una vita vi giuro è una vita che non lo vedevo quella forma lì non la vedevo da anni ma da anni perché significa non appena nel preciso momento in cui quindi è una roba che vedevo quando la studiavo in giappone io negli ultimi anni da quando traduco il manga non mi è mai e poi mai capitato mi è mai capitata questa forma verbale quel toita totan toita è un verbo al passato e il totan supporta ha bisogno di un verbo al passato e dice non appena la barriera verrà sciolta lesade yararecimauso le esade sono i laser utilizzando i laser perché il de in questo caso rispetto al de del balun prima dove indicava il luogo in cui avveniva l'azione qua non indica un luogo perché i laser non sono un luogo ma indica il mezzo con cui avverrà l'azione dopo cioè quel yararecimauso yararecimauso è anche qua una contrazione per il parlato vedete che atlas tutte le volte che parla parla soprattutto con delle contrazioni parla con frasi che ricordano molto un parlato giovanile yararecimauso è la forma contratta di yararete shimaimas ora yararete shimauso che vuol dire verremo finiremo per essere abbattuti finiremo per essere colpiti finiremo per essere sconfitti dai laser e quindi diventa in maniera un po' più leggera perché una frase del genere messa letterale sarebbe se non ci riuscissi non appena avremo sciolto la barriera finiremo per essere abbattuti dai laser voi capite che diventa molto pesante come lettura cioè a me quando capitano di questi testi qua in in italiano che sono tradotti e mal adattati diventa pesante da leggere quindi quel shimao quello yararete shimao serve a farci capire che atlas sarebbe dispiaciuta di questa cosa e in più è anche un indica un'azione che avverrebbe sul serio cioè nel momento in cui non ci riuscissimo se non appena abbiamo sciolto la barriera questi ci abbattono purtroppo quindi verremmo abbattuti dai laser edison risponde sorigai ichibaya konoshimade e prosegue begapanku wo koeru iken wa nai pacifista o seishita o no kacha anzi kachiyya quindi sorigai ichiban quella è la cosa più importante ichiban viene utilizzato per fare il non è l'imperativo cosa sto non mi viene esatto sciolta la barriera non appena non appena sciolta la barriera verremo abbattuti esatto e ichiban viene utilizzato per il superlativo assoluto quindi per indicare che qualcosa è il top la cosa più importante sorigai ichiban quella è al primo posto è il primo è la prima cosa da fare konoshimade su quest'isola e quindi torniamo al de del primo balloon quello shitanosode quindi questo qua questo qua konoshimade indica il luogo in cui avviene un'azione vegapanku koeru iken wa nai non c'è non c'è nessuno che sia in grado di superare la gerarchia di autorità la gerarchia di comando di vegapank vegapanku koeru koeru significa superare andare oltre oltrepassare in questo qua in questo caso è sorpassare non c'è nessuno che possa essere sopra alla gerarchia di autorità di vegapank px pacifista wo se shita wo no kachiya vince kachiya katsuya katsu pacifista wo se shita ho quindi fa vedere cos'è detto ah beh si bloccato al 1400 quindi con calma arriva tutto e vince quindi katsu chi meglio comanda chi comanda i pacifista i px quindi lì in mezzo ciao vincenzo vince chi comanda i pacifista beh qua è semplice mate atlas watashimo koi watashimo iku aspetta atlas vengo anch'io ha usop che dice eh cosa ittei wakenai daro wakenai daro ittei ittei di solito è fai bene ad andarci ma dopo c'è tutto il negativo wakenai daro sarebbe meglio che tu non ci andassi viene tutto negativizzato quindi viene tutto non sa cioè sarebbe una cosa tipo non sarebbe bene che tu ci andassi che in italiano suona malissimo e diventa e sta molto meglio dire sarebbe meglio che tu non ci andassi ome no ino chi o to to ranè de okiteru jikendazo qua è una frase che c'è bisogno di adattare perché dice ome no ino chi o quindi la tua vita però quel ome no ino chi o o è il complemento oggetto quindi che cosa cioè ne risponde alla domanda che cosa toru toranai de okiteru quindi succederà succederà che ti prendano o che non ti prendano la vita toru vuol dire prendere toranai vuol dire non prendere quindi in pratica gli sta dicendo questo è un caso questo è un evento in cui potrebbero prenderti o non prenderti la vita quindi è un evento in cui ti potrebbero prendere la vita da noi questa forma viene molto semplificata perché in italiano è difficile che venga messo sia l'affermativo che il negativo qua viene proprio messo l'evento più negativo quindi è una situazione è un caso è un incidente guarda che è un caso in cui potrebbero prendere la tua vita in cui potrebbero ammazzarti lo sai vero e Vegapunk risponde Shikashi tuttavia però e poi chiama Frankie oi Frankie-kun qua Sembra che Bonnie sia al piano di sotto allo strato di sotto è così? Sembra che oru è anche qua oru è il verbo aru arimasu o iru imasu in questo caso iru imasu perché oru esatto è una questione di vita o di morte chiamak significa più o meno quello è una questione di vita o di morte bello come Nick Rocco Beer Brewer e viva la birra quello oru è una forma educata per dire iru imasu dove iru viene utilizzato per gli esseri viventi aru arimasu viene utilizzato per gli oggetti in questo caso ovviamente è la versione educata un po' più alta del verbo imasu quindi gli dice sembra che Bonnie sia finita nello strato di sotto non è così? e e Frankie che risponde quindi anche qua qua ci sono due frasi una dietro l'altra intanto Ikiteruka è sopravvissuta è ancora viva Yokata bene mi fa piacere Kizaru nike rare te baria nige kitotsu te e viene piantato lì coi tre puntini perché viene viene interrotto poi da Vegapunk dice è stata calciata da Kizaru Kizaru nike rare te poi perché finendo con quel te quel te serve a farci capire che subito dopo è avvenuta un'altra azione baria nige kitotsu te quindi ha subito un colpo violento un colpo forte contro una barriera poi quindi ci sono i tre puntini come dire è successo qualcos'altro e lì Vegapunk che si incazza dicendo dai noto nagazzo i te o te nanigakera retagia gli dice tu sei un adulto grande e grosso dai no otona indica proprio otona vuol dire adulto dai indica proprio cioè tu sei un uomone adulto bello massiccio bello grande dai vuol dire grande cioè dovevi controllare cioè doveva essere sotto il controllo di una persona di un adulto grande grosso tsuite o te è praticamente una versione un po' più educata di tsukete tsukete imas tsukete ite che è praticamente come dire tsukete vuol dire fare attenzione quel chi è stato cancellato per lasciare solo lo tsuite o te in pratica gli sta dicendo era sotto l'attenzione cioè era sotto l'attenzione di un adulto grande grosso come è possibile che l'abbia scalciata cioè non è possibile per come ha fatto ad essere stata scalciata e frankie risponde warukata tsuman warukata warui vuol dire cattivo warukata è un dispiacersi ah è colpa mia tsuman anche lì versione adulta di tsumimasen dove tsumimasen viene utilizzato un po' da tutti tsumimasen dalle donne tsuman solitamente dagli uomini anche un po' più avanti con l'età tsugu taskeniku quindi colpa mia mi dispiace vado subito ad aiutarla でも bariagaio però c'è la barriera kama fa e abbiamo sanji subito che va avanti moshimosh kochira sanji boni chan kiyoshitsu nara oremu zettai kuse quindi moshimoshi viene kochira sanji è quello che succede sempre nelle telefonate pronto qui è sanji kochira è qui chi parla boni chan kiyoshitsu nara quindi se dobbiamo salvare se si tratta di salvare boni oremu zettai kuse vengo assolutamente anch'io zettai è assolutamente cioè come se stesse picchiando vengo assolutamente anch'io e intanto jimbe traslocatore risponde con vega punk omae sanno i yunimotsu wa zembu kai shushita washi ha uraguchi e mukauzo minna sokode ochi hao qui molto semplice vega punk i bagagli che hai di cui mi avevi parlato i bagagli che avevi detto li ho tutti spostati li ho tutti e li ho raccolti tutti kai shu kai shu vuol dire raccogliere li ho raccolti tutti washi ha che è watashi wa watashi wa uraguchi e mukauzo mi dirigo alla porta posteriore vero culo mi dirigo alla porta posteriore ura dietro uraguchi è l'uscita posteriore minna quindi tanto parla tutti sokode ochi hao ritroviamoci raduniamoci ochi hao vuol dire radunarsi incontrarsi rincontriamoci la sokode sokode soko indica il luogo che ha indicato nel ballon precedente per non tornare a dire uraguchi de ociao dice uraguchi de uraguchi e mukau e sotto dice sokode quindi nel posto che ho appena detto ci troviamo poi lì kaso quindi strato inferiore fabrio fez ku wa machino chushinbuni mada chikazukuna chikakuni kaizoku jiueri boni gaieru moyo partiamo con la prima frase non avvicinatevi non avvicinatevi è un imperativo chikazukuna quindi non avvicinatevi assolutamente non avvicinatevi ancora alle zone ai quartieri centrali chushin centro è proprio il centro centro è il cuore bu il quartiere centrale l'area centrale del villaggio chikakuni quindi nelle vicinanze kaizoku boni jiueri boni ga irumo yo sembra ci si dice che nelle vicinanze ci sia la piratessa jiueri boni chikushou chikushou vuol dire merda la prima frase era chikushou è il verbo isomu isomu vuol dire nascondersi quindi dice si nasconde da qualche parte kiyotsukero fate attenzione kiyotsukete è quando si dice a qualcuno fai attenzione quando se ne sta andando via sta prendendo la macchina kiyotsukete fai attenzione nereo so sa sareruzo può manipolare l'età ma quel sareru indica che manipolare l'età non manipola solo la sua dieta ma può far manipolare l'età quindi lei può cambiare l'età degli altri in italiano risulta che lei può manipolare l'età ed è molto generale qui in giapponese ti stanno dicendo può far cambiare l'età delle altre persone tant'è vero che sono tutti o chi è un vecchio rimbecillito chi è un bambino poppante sono tutti diversi e poi la battuta dell'uomo sdentato e tutte le allora l'inizio onore sarebbe onore con la o e non con ho ed è questo balloon qua questo qui onore è onore onore è tipo tu però è indicato a bonni doko he qua va bene dove dove sei andata chi he ta di solito è chi eta con la e non con he quindi è come se stesse parlando senza la dentiera onore doko he chi eta e sta dicendo dove sei sparita dove ti sei cacciata qua vabbè lasciamo perdere bonni uo uccitore prende catturate ammazzate bonni qua chiedono proprio di ammazzarla sento maruo a ken kuroko che da qua sono i marine e i marine qua parlano come darsi degli ordini come dare delle delle informazioni sento maruo a ken a ken shita quindi abbiamo avvistato sento maruo kuro koge da è completamente è carbonizzato kuro nero koge quindi è colore del carbone è un pezzo di carbone è carbonizzato qua vabbè lei che dice sento maruo possiamo scendere scendiamo ok qua perché tanto la battuta sento maruo e loro che ansimano anf anf possiamo lasciarlo perdere bonni nigero kaigunga kuro quindi bonni scappa nigero vai via scappa nigero è un imperativo la sta esortando ad andarsene kaigunga kuro la marina arriva arriva è qui quindi è un non passato quindi può anche voler dire arriverà ma in realtà è già arrivata lui appena combattuto con kizaru e poi alla domanda sento maru cosa sento maru di nuovo lui intanto ha iniziato a fare come abbiamo visto qua opossumaru avete visto le storie del anzi no il post stamattina del bike o la live di ieri sento maru se si vuole salvare si finge morto come gli opossum quindi opossumaru eccoci qua sento maru sento maru dosuru dosuru è cosa faccio subete owarumade kakure kire 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 kakure kakure vuol dire nascondersi kakure kire vuol dire rimanere nascosti stare nascosti fino a quando perché c'è un made made indica quando fino a quando deve rimanere nascosta subete o aru quindi quando finché tutto sarà finito in italiano suona all'opposto cioè dovrei rimanere nascosto finché tutto non sarà finito finché tutto non è finito finché correggiamo grande matti grazie mille per i 39 grazie mille vecchio cuore anche tu matti quindi devo rimanere nascosta finché tutto non sarà finito se lo sta chiedendo da sola labo face qua abbiamo rufi che sghignazza come un monaccio ah 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 quindi rimane stupito yatenna zoro stai lo stai facendo anche tu yaru ciao pierre yaru vuol dire farlo far qualcosa quando gli dice yatenna lo stai facendo anche tu zoro tetsudaoka tetsudaoka vuoi una mano ti do una mano e ovviamente e ovviamente zoro che l'imbruttisce dicendo omeh wa kizaru kizaru ni shucheshiro quindi resta concentrato su kizaru una roba per i cojoni cioè proprio concentrati su quello e qua abbiamo i due che ansimano come dicevo nella nel video credo delle anticipazioni noi vediamo qua due modi diversi di ansimare uno che è questo di zoro che dove dice zee e l'altro dove dice ah questi due indica proprio il momento diverso della respirazione ha spesso e volentieri viene utilizzato e vedendo anche l'immagine mi sono sbagliato l'altra volta per indicare un una espirazione dice ha ha mentre quando ispira viene fatto poi lui ha anche una spada in bocca e quindi è il suono è un suono aspirato con i denti quindi si sente un un sibilo i due si picchiano e qua nelle nei due balloon ognuno viene fatto capire che i due personaggi sono in una situazione completamente diversa di stanchezza perché Zoro non è stanco ma neanche per sbaglio mentre Ru e Luchi è stanco cosa ve lo fa capire guardiamo la battuta di Zoro quindi con una forza del genere Uchi no sensu to tatakawa sete moraer to omuna non pensare minimamente di riuscire di poter combattere che ti lascerò combattere col mio capitano come dire non pensare di riuscire a combattere col mio capitano con una forza tanto blanda con una forza di livello così basso la risposta invece di Luchi comincia dicendo ride e poi c'è un tempo morto quindi un tempo dove lui sta prendendo fiato Tashkani fermo perché c'è il balun che taglia quindi si ferma anche lì la battuta Yonkono Nambatsu e anche lì di nuovo pausa Koroshiga anzi Koroshigai ga aru e anche lì di nuovo puntini di sospensione qui Oda ci fa capire che uno lo sta imbruttendo ma non è affaticato l'altro deve prendere fiato tra una mezza frase e l'altra perché lui ci sta dicendo ride poi dice certo sicuro Yonkono Nambatsu quindi il numero due di un imperatore di uno Yonko Yonko significa quattro imperatori e dove ieri chiedevano durante la fatal che differenza c'è tra Yonko e Tenno il Ko di Yonko è il No di Tenno e vuol dire imperatore qual è la differenza che qua c'è Yon che è il kanji di quattro mentre Tenno che è imperatore imperatore nel senso giapponese del termine ha il kanji di cielo Ten e il kanji di No che è la la versione giapponese di quello che in Cina viene inteso come imperatore celeste quindi l'imperatore dal cielo divino e poi dice Koroshigai ga aru quindi vale la pena ho proprio voglia di di ammazzare il numero due di un imperatore però nel mentre le battute sono questi due che stanno faticando uno è molto easy Zoro è molto easy Lucci sta ansimando forte Lucci sta facendo fatica non riesce a mettere una frase una di fila all'altra mentre Zoro fa due frasi una di fila all'altra senza grossi problemi Lucci non riesce a fare due frasi di senso compiuto senza ansimare senza respirare poi andiamo di nuovo da Kizaru umini ochiru ne cioè qua dice umini ochiru ne ochiru vuol dire cadere cado non sto cadendo perché sarebbe ochiteru invece qua ochiru ne quindi cado in mare proprio sembra io quando sento parlare Kizaru mi ricorda per intenderci i bulgari Natolia dei bulgari cioè Marina Massironi che faceva Natolia nei bulgari con questa voce e assolutamente senza inflessione senza un minimo sentimento umini ochiru ne e poi viene fuori Yasakani no Magatama i kanji utilizzati per Yasakani no Magatama sono esattamente gli stessi kanji utilizzati in giapponese per far capire indicare uno dei tre gioielli della della tradizione shintoista giapponese i tre gioielli sono Yasakani no Magatama cioè questo gioiello e questo gioiello il gioiello dell'anima che è praticamente una sorta di goccia è un gioiello di jada a forma di goccia con un punto vuoto nella parte alta nella parte più stondata poi c'è lo Yata no Kagami cioè il lo specchio a otto lati e il terzo che viene citato anche qua esattamente in questo momento qua che è Amanomurakumo Amanomurakumo è una spada tecnicamente per le leggende giapponesi è la spada che si trovava nascosta dentro la coda dello Yamata non Orochi ed è in questo caso Amanomurakumo e lui essendo che ha la luce richiama molto la celestialità tutti i nomi delle tecniche di Kizaru sono legati alle leggende del folklore giapponese non mi stupirei che in un futuro magari in uno scontro tiri fuori una tecnica di nome Amaterasu che è la divinità del sole giapponese scendiamo vediamo l'attacco di Rufi perché qua dice mi fa male allora è lungo e il cangio utilizzato è bianco whip è la lettura inglese segnata in katakana di Muchi che è frusta una cosa importante io ho visto alcune traduzioni che hanno utilizzato come e nome della tecnica Don e non Don Don è sbagliato mi spiego il perché è sbagliato perché a livello di lettura questo kanji qua si legge Shiroi ma la lettura che ha messo Oda è Don quel trattino sotto al Do è il trattino che viene utilizzato in katakana per indicare una pronuncia allungata se fosse stato Don l'onomatopea che c'è di solito al fine capitolo sarebbe stato Do M mentre invece qua non c'è Do C'è Do trattino quindi è Don molto probabilmente è Alba in inglese è l'unica cosa che mi viene in mente perché proprio nel fumetto si parla spesso di Alba di aspettare l'Alba del mondo di vedere l'arrivo dell'Alba del mondo e la traduzione dei kanji significa Gom Gom frusta bianca perché ovviamente Rufi combatte in bianco Horohoroka Doitsu Doitsu ga honmono da Horohoroka richiama da una parte quello che viene detto all'inizio saga quando vede i mostri e sa che si chiamano hologrammi hologrammi horo ma grazie Rocco vecchio cuore per i due mesi grazie mille e Horohoro la prima cosa che mi è venuta in mente quando l'ho tradotto e secondo me richiama tanto ed è un'autocitazione di Oda Horohoro è esattamente il nome del potere che aveva Perona che ha Perona quindi a me ha ricordato tanto come se dicesse ma quindi questi sono quei fantasmi là quegli hologrammi là perché il potere di Perona era Horohoronomi quindi e qua mi è venuto in mente immediatamente quello poi è chiaro e il fatto che siano due Horohoro uno di fila all'altro fa capire che lui sta pensando a un frutto del diavolo e sta pensando a quel frutto del diavolo Doizu tra questi qual è quello reale intanto Brewer vecchio cuore ti ringrazio per i complimenti grazie mille grazie davvero e poi wow perché intanto l'ha raggiunto Kakata non è una roba assurda non è un non ha preso in giro non è hai cacato e Kakata è in questo caso aaaah t'ho fregato probabilmente perché c'è tutta una parte prima e Kakata è solo il verbo di tutta la frase e lui dice solo la parte finale cioè quel Kakaru Kakata e poi gli risponde con un Gomu Gomu no Don stamp dove come già vi dicevo prima il Don ha i kanji di Shiroi e la lettura Don lunga e stamp è già in inglese stamp se vedete è scritto in katakana stamp con il piedone marcio e qua dice Homono mo yatsuketaka homono mo quindi anche il corpo reale yatsuketa quindi ho colpito ho eliminato ho tolto di mezzo anche il corpo vero anche il corpo reale poi vede l'esplosione ed ecco la risposta di Rufi urla e poi dice Hikakata no redatta quindi Hikakaru è ci sei cascato prima quel kakatta doveva essere Hikakatta qua è Hikakatta no wa o redatta quindi quello che c'era cascato ero io perché in pratica vuol dire ero io Hikakatta no quindi quello che c'era cascato sono io ad esserci cascato e poi abbiamo la risposta sempre bella di Kizaru io io adoro Kizaru perché cioè i balun di Kizaru fanno sempre capire che lui ha un andamento molto cantilenante oh cascine Vegapunk wa do koni quindi che strano dov'è Vegapunk dove è andato Vegapunk qua Vegapunk scappa ma te ora è monosero Vegapunk aspetta salgo anch'io fai salire anche me Doshitanda Kesso kaete yo Doshitanda cos'è successo cosa sta succedendo Kesso adesso ve lo dico letteralmente Kesso vuol dire cambiare colore Kesso suru Kesso o kaeru vuol dire cambiare colore impallidire o anche arrabbiarsi incollerirsi diventare paonazzo per la rabbia quindi in pratica gli sta dicendo visto che lui è partito gli dice cosa succede? hai cambiato espressione Kesso è so è il l'espressione Ketsu significa sangue quindi è come se gli dicesse hai cambiato colore ed espressione e quindi io proprio ho lasciato il hai cambiato espressione e qua te odasuna yo kaedomo quindi non provate ad alzare le mani marine te odas e la frase in giapponese vuol dire non provate cioè non uscite le mani che è bruttissimo non è italiano però in giapponese per dire non alzate le mani dicono non uscite le mani ed è un imperativo qua imperativo negativo das na yo quindi non alzate le mani capito kai hedomo marinai però spesso e volentieri quel marinai diventa marine e arriviamo a quella che è la frase più importante dell'intero capitolo è quasi calabrese esatto pierre è quasi calabrese non uscire le mani non uscite le mani ora vengo immediatamente ad aiutarti boni 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 ve lo leggo direttamente dal dizionario osanai 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 significa piccolo giovane infantile puerile osanai koro che non è koro è un altro kanji che significa il tempo che significa tempo momento è da bambino in infanzia da piccolo quindi quel osanai ko indica proprio un bambino piccolo quindi vegapunk sta dicendo e riusci può sì voler dire e potrei riuscire a a a vedere ammazzare un bambino una bambina così piccola e se lo chiede sarei in grado di far ammazzare una bambina così piccola però di guardare mentre ammazzate una bambina così piccola perché i i kanji utilizzati sono mi goroshi quindi goroshi è ammazzare uccidere mi è guardare mi goroshi significa guardare mentre qualcuno ammazza veder ammazzare veder far ammazzare e quindi gli sta dicendo pensate che io possa oppure potrei far ammazzare sotto i miei occhi una bambina così piccola una bambina così piccola come quella di quel tipo Anna Osamaiko una bambina piccola di quel genere sotto i miei occhi vabbè ringo san sotonider una corrosare cimauso non uscire non andare fuori finirai per farti ammazzare allora pierre se avesse messo se avesse messo torniamo su se al posto di Osamaiko avesse messo Anna Ko Mikoroshinide Kiruka non avrei tradotto come bambina avrei tradotto come ragazza e allora ci sta che potrebbe essere diciottenne ventenne come anche decenne dodicenne quindicenne ma nel momento in cui ha messo Osamaiko è sicuramente una bambina non è una non è una ragazza di 15 anni non è una ragazza di 18-20 anni è per forza di cose una bambina più piccola proprio per colpa di quel Osanai perché Osanai indica un un range di età che fa che va dall'infanzia quindi dall'appena nato alla pubertà anche meno anche meno della pubertà perché indica proprio l'età bambinesca fanciullesca dalla nascita fino a 10-11 anni non di più 11 anni è già tanto quindi lui non sta guardando Bonny come una ragazzina come i nostri vecchi chiamano ragazzini anche i quarantenni no sta indicando una bambina molto piccola Sotoni De Renà quindi non andare fuori non andare con Rosare Cimau finirai ammazzato e abbiamo Kizaru che torna a parlare e meno strascicato Dokoni Kukidai dove ha intenzione di andare dove vuoi andare Vegapunk e c'è ancora il l'ondicella come dire la sta trascinando lungo Vegapunk spara un laser a caso Rufy che ce lo prende in pieno e a me quel prenderlo in pieno così mi ha dato l'impressione di quello che se lo pappa e poi fa uscire il laser da tutti cioè si illumina d'immenso non è uno che viene preso da un laser e viene tranciato da un laser poi dice cioè che brucia brucia scotta scotta però non mi ha dato l'impressione di quello che ha subito il colpo è una pala da discoteca esatto si è illuminato d'immenso Frankie che dice vado anch'io e poi ordina Lilith quindi usando il Frankie Shogun sposta la nave quindi letteralmente sposta la nave quindi gli sta dando un ordine sposta la nave usando il Frankie Shogun e Lilith risponde un un e viene utilizzato da dai giapponesi soprattutto in un parlato per dire sì perché i giapponesi nel parlato dicono come dire sì per dire no c'è questa cosa come c'è la roba se vi capita di vedere delle storie su Instagram di persone giapponesi che iniziano a fare a seconda dell'espressione cambia anche il significato di quel è i giapponesi sono così molto tendono tendono ad asciugare molto poi in alcune cose per dire una roba semplice ci mettono un'eternità scendiamo Egedu Kaigan quindi coste di Eged Hoko quindi rapporto Jozo esatto esatto Dottor X guerrieri giochiamo a fare la guerra esattamente quello Jozo Rabofaze Yori quindi Dallabofaze nello strato superiore il Dottor Vegapunk è arrivato è venuto scendendo oppure oritekimas indica esatto indica che sta scendendo in questo momento o è appena sceso oritekimas quindi Vegapunk che appena sta scendendo dal laboratorio Frontier Adom Ichibu Kaijou Saido Tousa quindi Frontier Adom Ichibu Kaijou Kaijou è sciolto liberare Ichibu una parte quindi ho liberato una parte del Frontier Dome Saido Fusa di nuovo Saido un'altra volta Fusa l'ho bloccato l'ho sigillato e poi è arrivato l'ordine Zenbo pacifista io quindi a tutti pacifista Vegapunk Yori Mere Mere Enko quindi cambio di ordine cambiamento di ordine Enko Mere Mere wo Enko Enko Suru Shimasu quindi cambio l'ordine Vegapunk Yori quindi un cambiamento d'ordine da parte di Vegapunk Scendiamo Shima Shima no Kae wo Isso Seyo Isso Isso Adesso ve lo Ciao Mesut Allora Vi cerco Isso cosa significa Isso fare piazza pulita fare piazza pulita togliere di mezzo cacciare sradicare spazzare via a me piaceva quel fate piazza pulita perché mi piace di più che togliete di mezzo sradicate spazzate via cacciate via fate piazza pulita mi piace di più Isso Se Se è l'imperativo di Shimasu quindi cacciateli fuori fate piazza pulita di cosa che cosa devono tirare levarsi dalle balle Shima no Kae yo Kae wo quindi i marine dell'isola in questo caso i marine sull'isola quindi in questo caso sta dicendo secondo me sbagliando levate di torno tutti i marine che si trovano dentro l'isola per me sarebbe stato molto più figo lo dicevo anche ieri sera e molto più intelligente levate di torno i marine fuori dall'isola affondate tutte le navi perché al momento non c'è nessuno che può dare l'ordine quindi anche per avere una sicurezza pulite il perimetro abbattete tutte le navi della marina fuori se c'è un se c'è un se c'è uno come saturn è là dentro arrattelo tiratelo giù però tant'è è il manga di oda e in questo manga di schiattati ce ne stanno troppi 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 pochi allora ragazzi avete qualche domanda abbiamo un quarto d'ora anzi una decina di minuti di tempo prima che vi mandi che poi vi mandi per modo di dire perché tecnicamente io da qua non vi posso mandare su youtube e però vi posso cioè vi stacco in tempo per mandarvi proprio da per mandarvi dal re allora saturn secondo me non sta sentendo saturn secondo cioè se il megafono ha parlato così forte perché lei sta parlando satlas sta parlando di un megafono e sentono tutti i mostri sull'isola può voler dire che l'ordine è arrivato fino a saturn e quindi ha utilizzato un megafono talmente forte che ha sparato e si sente dentro alle navi oppure lui non sta sentendo ma viene fatto capire che l'ordine viene dato ai pacifista ma lui è dentro e sa che a questo punto è lui cioè sa e lui è l'unico personaggio che può cambiare l'ordine cioè adesso l'unico che può cambiare e prendersi di nuovo in mano la situazione è lui quindi per me l'idea è questa è credibile vedendo la grammatica del fumetto che sia stato pronunciato con un megafono a una a un volume talmente alto che anche saturn lo senta però non è detto perché non mi dà l'impressione di una faccia stupita la faccia è una faccia sonnecchiante non è una faccia di quello che appena sentito dare un ordine che lo obbliga a scendere in campo quindi per questo ho l'impressione che lui non tecnicamente lui non abbia sentito niente tant'è allora ragazzi quelle onomatopee sul petto sono go 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 può anche voler dire che sta sentendo perché go go può anche voler dire la trasmissione di un suono ma può anche essere il suono magari delle onde secondo me a questo punto go 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 può anche essere la propagazione delle onde sonore di atlas perché vediamo un attimo no qua è secondo me può anche darsi che siano arrivate fino a lui questo go 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 può voler dire che si è propagato anche fin lì il cuore ha una trasformazione in caso in che senso Pier? no 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 non gli è arrivato il suono di Rufy non gli è arrivato il suono di Rufy perché il suono di Rufy è sempre qua è go 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 quindi uno è un suono di questo tipo qua l'altro è un suono diverso go 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 non è un suono di tamburo in Oda c'è sempre abituato che i suoni di tamburo sono do 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 e cose così go 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 è un suono probabilmente di propagazione non credo che si sia trasformando secondo me è presto la trasformazione se ci sarà la vedremo dentro iGAD non adesso il robo malefico no non può essere ancora là non credo che sia già arrivato alle coste non sappiamo neanche che cosa faccia quindi quello lo capiremo solo esclusivamente secondo me nel prossimo capitolo nel prossimo capitolo secondo me vedremo il robottone che entra in azione a meno che a meno che non venga di nuovo cambiato l'ordine e il robottone passa per rostrare tutti i pacifista che ci sono lì lo scopriremo onestamente lo scopriremo solo vivendo no vabbè ma di questi gossi sono già visti migliaia di volte in one piece però in questo capitolo non mi sembra fatemi vedere no 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 non mi sembra di vedere c'è il dong il sba che è proprio no bene o male allora papapapapapa quando lancia le cose qua queen quando fa la virata no per il resto go 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 io non l'ho visto da altre parti devo essere sincero no 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 c'è qua go go qua sono i razzi che si stanno accendendo questo go sono proprio i razzi che si stanno accendendo dietro da atlas quindi può anche darsi che sia il il suono del 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 vega tank mentre sta scendendo perché io non ho controllato quel rumore ma credo sia diverso esatto qua non produce suono qua non viene mostrato e qua non viene mostrato quindi può anche essere il suono dello sferragliare del del cos del vega tank mentre scende può essere l'acqua lunghe assolutamente l'acqua lunghe quindi per i serafini dici che torneranno per forza torneranno perché a questo punto loro e a meno che non distruggano tutto quello che c'è lì dentro i serafini finiscano in mare i serafini sono lì e devono solo essere liberati e comandati quindi credo che il problema non si ponga bene ragazzi sono le 3-5 io vi saluto così voi avete il tempo necessario per andare su youtube dal re adesso vi faccio una cosa intelligente quindi vi metto tutti quanti qua nei commenti il il link alla alla live del re il gimme mala non può farti del male vi do adesso due secondi il link del della live del re del 25esimo del sì il 25esimo parallelo e arrivo eh arrivo 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 live qua sì ci siamo ci siamo qua eccoci qua ve lo piazzo nei commenti così voi potete tranquillamente traslarvi di là per il resto ragazzi vi saluto e ci vediamo domani sera sempre qui su twitch per il quinto quarto a tema a tema sempre one punch man ciao belli alla prossima e grazie a tutti quelli che si sono salvati grazie